Musica Per dire tutta la tavola mitagorica a massima velocità e garantire al pubblico che non sto leggendo da nessuna parte mi metterò questo asciugamano sopra gli occhi questo video sarà registrato in presa diretta senza stacchi e senza nessun taglio a partire da ora 0x0 0x1 0x0 0x2 0x0 0x3 0x0 0x4 0x0 0x7 0x0 0x8 0x0 0x9 0x0 0x10 0x0 0x1 1x1 1x2 2x1 1x3 3x1 1x4 4x1 1x5 5x1 1x6 6x1 1x7 7x1 1x8 8x1 1x9 9x1 1x10 10x2 0x0 0x1 2x2 4x2 4x3 6x2 4x8 2x5 10x2 6x12 2x7 14x2 8x16 2x9 18x2 10x20 3x0 0x3 3x0 0x3 3x1 3x2 6x3 9x3 9x3 4x4 12x3 5x15 3x6 18x3 7x21 3x8 24x3 9x27 3x10 30x4 0x0 0x4 4x1 4x2 8x4 4x3 12x4 4x4 16x4 5x20 4x6 24x4 7x28 4x8 32x4 9x36 4x10 40x5 5x0 0x5 5x0 0x5 5x1 5x2 10x5 5x3 15x5 5x4 20x5 5x5 25x5 6x30 5x7 35x5 5x8 40x5 9x45 5x10 50x6 0x0 6x1 6x2 12x6 3x18 6x4 24x6 5x5 30x6 6x6 36x7 42x6 8x48 6x9 54x6 10x60 7x0 0x7 7x1 7x7 7x2 14x7 7x3 21x7 7x4 28x7 5x45 7x6 42x7 7x7 49x7 7x8 56x7 7x9 63x7 10x70 8x0 0x8x1 8x8 8x2 16x8x3 24x8x4 22x8x5 40x8x6 48x7 56x8x8 64x8x9 72x8x10 80x9 0x0 0x9x1 9x1 9x9 9x2 18x1 Tutti, nessuno escluso, possono imparare le tabelline a questa velocità, imparare le tabelline con questo metodo è importante perché è il metodo che serve per svolgere correttamente velocemente moltiplicazioni, divisioni e un'altra infinità di calcoli di aritmetica di base. E chissà se con questo video riuscirò a entrare nel Guinness dei Primati. Grazie a tutti! Grazie a tutti!